Continuano le iniziative per la promozione turistica di Clusone, recentemente anche un video YouTube di un noto canale che ha già riscosso un certo successo, migliaia di visualizzazioni. Sì esatto, continua un lavoro lungo che abbiamo già iniziato ormai qualche anno fa di riposizionamento o meglio dire di promozione possiamo dire oggi dell'immagine di Clusone come meta, come destinazione turistica. All'interno di questo progetto uno degli ultimi punti è stata appunto la collaborazione con In Viaggio col Tubo, un canale di scoperta, di viaggi, di promozione del territorio che è realizzato da una copia di architetti ma ormai totalmente prestati al mondo del turismo e della comunicazione e del viaggio. In Viaggio col Tubo è appunto il nome del loro canale, hanno realizzato un video durante le loro esperienze, durante la loro presenza a Clusone ma tramite il Comune di Clusone anche nei paesi più vicini in cui narrano e parlano delle bellezze del nostro territorio. Lo fanno indicando quali che sono i punti più noti, magari le bellezze più note ma anche le esperienze più particolari. Questo doppio valore, quindi mettere assieme ciò che è più conosciuto con quello che invece può essere un motivo più particolare, diverso per scoprire i nostri territori, è quello che ci è piaciuto di più della loro reazione, quindi è stata bella questa collaborazione con loro. Hanno realizzato un contenuto veramente bello, dedicato a Clusone dove l'arte non muore mai. È stato veramente un bel risultato e che è stato premiato ancora già oggi dai risultati. Si parla ad oggi più di 16.000 visualizzazioni. E da poche settimane il centro starico di Clusone si può scoprire in modo nuovo? Sì esatto, l'ultima novità è appunto la realizzazione di una nuova cartellonistica informativa e turistica. Una cartellonistica che permetterà di scoprire Clusone in modo esatto, nuovo, in modo anche interattivo. Potrete vedere quindi questi nuovi pannelli che hanno una caratteristica, quella di essere appunto arricchiti da una realtà aumentata, una realtà virtuale. Attraverso un codice QR che può essere scansionabile tramite qualsiasi cellulare o dispositivo mobile, infatti sarà possibile accedere a una serie di servizi. Dalla appunto la realtà animata da un personaggio che viene preso dalla fresco più famosa di Clusone che è quella della danza macabra, ma che diventa una guida per bambini, ma non solo alla scoperta di Clusone e dei suoi monumenti in luoghi più belli. È una nuova cartellonistica che è stata resa possibile grazie a alcuni bandi vinti a Comune di Clusone e realizzati in collaborazione con Visit Bergamo e con Promo Serio che permette a tutti di scoprire le bellezze del nostro territorio. L'obiettivo infatti è quindi di rendere il patrimonio artistico e culturale accessibile e fruibile da tutti. Anche quelle persone che magari hanno una limitazione nell'accesso, quindi una disabilità di tipo motorio, uditivo ad esempio, ma anche intellettivo. Quindi potranno godere le bellezze di Clusone attraverso delle realtà aumentate, quindi vedere anche dall'esterno luoghi che ad oggi, speriamo in futuro non lo siano più, ma ad oggi non sono accessibili per tutti, ma anche scoprire attraverso la lingua italiana dei segni o attraverso appunto il racconto a viva voce di questo personaggio di un fumetto nuovo.